Una diffida per chiedere la revoca in autotutela del provvedimento del Consiglio Comunale numero 21 dell'11 aprile 2019 con cui sono state adottate nuove misure per la ricostruzione e le demolizioni degli aggregati storici nelle frazioni. Una misura voluta in particolare dall'assessore all'urbanistica Daniele Ferella e che ora finisce nel mirino di 5 associazioni l'Istituto Nazionale di Urbanistica di Abruzzo e Molise, Italia Nostra, Sezione dell'Aquila, Archeoclub L'Aquila, Legambienti Abruzzo e Pronatura Abruzzo. La diffida è stata consegnata venerdì scorso al Tribunale Civile dell'Aquila. Le associazioni contestano come le nuove misure siano state approvate senza l'ascolto dei cittadini eludendo l'obbligo di legge di sottoporre a pubblica partecipazione una variante completamente stravolta. Inoltre, in sede di Consiglio Comunale rispetto a quella inizialmente sottoposta a vari organi che ne devono dare l'avallo. Questa delibera di fatto, sostanzialmente, intervenendo sull'articolo 46 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, toglie qualsiasi paletto di garanzia a tutela della storicità dei tessuti storici, diciamo così, delle frazioni. Vale a dire che apre ad una deregulation molto pericolosa. I tessuti storici, vale a dire gli aggregati, quindi i materiali di cui sono composti, la loro apparecchiatura costruttiva, gli elementi di decoro, i freggi, l'impianto a terra, la tortosità dei vicoli, delle stradine, la loro tipologia edilizia e soprattutto la storia di cui sono permeati. L'identitarietà che restituiscono al paesaggio rurale e alle comunità che ancora con fatica li abitano rischiano di essere completamente cancellati e questo non è accettabile. Fino prima dell'entrata in vigore, perché questa norma è stata approvata ed è in vigore, esisteva la norma precedente che tutelava il tessuto, il patrimonio storico, facendo in modo di intervenire con un restauro conservativo. A preoccupare inoltre sono i danni al patrimonio materiale e immateriale delle frazioni, borghi storici architettonici da tutelare e la totale deregulation che potrebbe aprire la strada a demolizioni volontarie. Il criterio di variare la delibera del dicembre 2016, che aveva avuto tutte le approvazioni della ASL, della provincia e soprattutto della Solintendenza, con delle modifiche che non hanno poi avuto analoghe approvazioni, costituisce questo elemento di forte rischio di illegittimità e soprattutto il fatto di aver variato l'articolo 46 dalla disciplina del restauro e risanamento conservativo, come era appunto in precedenza, quella del 2016, in ristrutturazione delle frazioni. Ora capite benissimo che è un conto al restauro conservativo, è un conto alla ristrutturazione.